Questa società stesse perdendo, questa società non solo non perde, guadagna, specula, sta facendo della Sardegna una landa desolata dove i turisti non riescono ad arrivare, anzi non riescono a tornare in Sardegna nemmeno gli emigrati, nemmeno i figli di questa terra, perché la Tirrenia insieme a Mobilize hanno fatto un cartello con la complicità del governo e dello Stato. Tutto questo sta avvenendo perché vi è una connivenza tra le parti politiche che a destra e a sinistra hanno interessi, rapporti con i privati, facendo prevalere l'interesse privato rispetto a quello pubblico. Tutto questo non può essere assolutamente accettato e per quanto mi riguarda annuncio già in quest'ala una battaglia senza confini per contrastare, per denunciare la connivenza di questo governo, di questa classe dirigente regionale e statale con quelli che hanno inquinato e che stanno inquinando il mare della Sardegna, vietandola nell'utilizzo soltanto dello sviluppo turistico a milioni e milioni di cittadini. Questo è quello che sta avvenendo e questo è il dramma che io mi sento oggi di denunciare qui. La ringrazio, onorevole Pivi. Passiamo all'interpellanza. Due mille trentasei delle nonorevoli Ruocco ed altri sulle iniziative di competenza, anche normative, volte a rafforzare la posizione di indipendenza e garanzia della Banca d'Italia e il rapporto agli istituti bancari dalla stessa vigilati, nonché a migliorare le condizioni di accesso al credito, con particolare riferimento al contenimento dei tassi di interesse. Onorevole Ruocco, le illustra. Prego. Grazie, Presidente. Il tema che abbiamo affrontato con questa interpellanza è un tema molto delicato, perché abbiamo iniziato ad approcciarlo ispirati non solo dalle istanze che pervenivano dal territorio, ma anche in particolare da un articolo di un quotidiano che citava il caso di un imprenditore al quale la Banca di Credito Cooperativo di Alberobello, in seguito all'apertura di un affidamento di 200 mila euro, applicato inizialmente condizioni assai convenienti in termini di spese e tassi, ma poi, in seguito ad una temporanea situazione di difficoltà, ha triplicato le spese e le competenze passive, applicando inoltre un tasso di interesse ben superiore alla soglia massima stabilita dalla legge 108 del 1996. Abbiamo, a questo punto, analizzando questo caso, abbiamo poi approfondito la questione, ma non era neanche più di tanto necessario.